Quindi siamo pronti, finalmente ci siamo, è arrivato il momento così tanto atteso all'inizio di questo progetto Carnival 2020. Vi aspettiamo stasera presso l'auditorium per entrare nel vivo del carnevale, quindi ci sarà veramente un grande progetto che vi attende. Mi raccomando seguite tutte quante le tappe, preparate le vostre maschere per domani sera, perché domani sera Piazza Seggio ci colorerà di tante maschere. Infatti ci sarà proprio il contest dell'abito più bello, ma soprattutto le grandi opere, quelle per cui i ragazzi stanno lavorando già da dicembre, che hanno sacrificato le loro nottate gratuitamente, gli sono messi a disposizione il servizio del loro paese, saranno liete di essere accolte da tutti voi, da tutti voi che parteciperete a questo grandissimo corteo e a questa grandissima sfilata dei carri allegorici domenica alle ore 15 con la partenza di Piazza Municipio. Poi la festa continuerà, non finirà domenica, ma continuerà il lunedì mattina con l'Istituto Comprensivo Falcone Borsellino, il lunedì mattina quindi a Caolonia Marina, il lunedì pomeriggio continueremo a festeggiare il Carnevale, questa bellissima festa tradizionale che appartiene ai bambini, ma in realtà appartiene ai bambini e agli adulti, quindi lunedì pomeriggio a Placanica con l'oratorio di Placanica e poi invece si concluderà il martedì pomeriggio e il martedì grasso a Signano. Mi raccomando non perdete questi appuntamenti perché veramente ne valgono la pena, il Carnevale della Locride vi aspetta a Caolonia.